Alla fine il nuovo regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia del comune di Arezzo, che aveva tanto fatto discutere per l'inserimento del criterio dei nonni, non è stato discusso in consiglio comunale. Questo, come altre pratiche, sono state rimandate e non sottoposte all'esame dell'assise a retina perché è mancato il numero legale. Nel tardo pomeriggio di ieri, al momento del voto su una variante al piano strutturale, PD e Scelgo Arezzo hanno deciso di non partecipare al voto e sono usciti dall'aula. In quel momento erano cinque i consiglieri di maggioranza assenti e quindi è mancato il numero legale. Alcune assenze dai banchi della maggioranza sono ormai consuete da qualche settimana. Del resto c'è già stata una lettera di richiamo inviata tempo fa dal sindaco Alessandro Ghinelli ai gruppi di maggioranza per richiamarli al loro ruolo. Non si conoscono al momento i motivi di queste assenze. Sta di fatto che quanto accaduto nell'ultimo consiglio comunale viene fortemente stigmatizzato da Scelgo Arezzo. Il gruppo consigliere di Scelgo Arezzo esprime forti perplessità per quanto sta accadendo in consiglio comunale. Si interrompe la votazione delle pratiche per mancanza del numero legale. Alcuni consiglieri sono assenti ormai da molto tempo. Interessa capire per questa città se la giunta Ghinelli è ancora in grado di andare avanti e di garantire governabilità al nostro comune.